Guardateci sul petto e portateci rispetto. Amici di Youtube e Instagram, buongiorno a tutti quanti, buona domenica a tutti, edizione giornaliera, buona domenica 28 luglio a tutti quanti. Ieri grandissimo test, alziamo il livello, alziamo un po' l'asticella dell'avversario contro la Spalmas che è vero. Da come abbiamo giocato abbiamo fatto sembrare un po' il Las Palmas una squadra come la pergolettese, sia come colori sia come qualità vista in campo. L'abbiamo fatta sembrare un po' come il Milan, però comunque affrontavi una squadra che milita nella massima serie spagnola, in Liga. Un altro test veramente passato a pieni voti. Ripeto ancora, sicuramente sono amichevoli, la condizione è quella che è, a parte per un Mkhitaryan sontuoso. Adesso ci arriveremo, faremo un giudizio sui singoli. Un me di Taremi che non a caso, insieme a Zielinski, ha voluto iniziare subito 24H da piano e poi i risultati si vedono. Insomma, bisogna veramente sottolineare gli acquisti di Taremi e Zielinski che, ripeto ancora, secondo me ad oggi sono stati sottovalutati un po' da tutti. Ma ha i due campioni, perché fino a prova contraria a Taremi e Zielinski sono due campioni, la loro carriera parla da sola, sia per l'iraniano che stiamo parlando di un attaccante, di un futbolista come lo chiamo io, perché l'arciere persiano è veramente un giocatore che ha il sangue che sa di gol, nel suo sangue si percepisce la palla che entra in rete. Io perché lo chiamo arciere? Perché vede la porta, cioè l'arciere è uno che sottoporta, non sbaglia mai. Ha veramente una finalizzazione incredibile, 5 gol in 3 amichevoli e questo sta ancora a significare la qualità di due acquisti che sono importantissimi per il gioco di Inzaghi. Si sono già rodati al meglio, basta vedere sia il polacco che comunque è arrivato da una settimana, la condizione fisica sicuramente non è stellare, però già lo vedi, è come se giocasse da fermo, come tocca il pallone, gli inserimenti, è come se giocasse un po' con il joystick, cioè il triangolo della play, mette quei filtranti incredibili. Non è assolutamente nulla di nuovo, sapevamo della qualità del pittore di Cracovia, però da come ha iniziato il primo tempo ieri, veramente sembrava di avere un giocatore che, di avere veramente un veterano, cioè sembrava veramente di avere un giocatore che da anni gioca nell'Inter. La cifra, proprio la tecnica, l'applicazione in fase di non possesso, anche quando, poi ovviamente giocando su una linea di centrocampo insieme a un alieno come Miki, però, cioè, veramente, si sposa perfettamente con il calcio di Inzaghi e Zielinski ti può garantire finalmente quelle rotazioni che magari l'ultimo anno non potevi avere, perché comunque già l'anno scorso avevi un centrocampo di una fattura assurda, incredibile, fortissima, quest'anno hai veramente un cotitolare che, se lo guardiamo da solo, è un titolarissimo, cioè, Zielinski farebbe il titolarissimo all'Inter, con davanti però hai un Armeno che è un cyborg, anche ieri, super partita, migliore in campo insieme a Taremi, l'assist per il secondo gol, un gol super, proprio un gol, un'azione di fattura alla Simone Inzaghi, cioè ormai basta trovare le similitudini, giochiamo come i siti di Guardiola, giochiamo come il Barca di... no, giochiamo come l'Inter di Inzaghi, cioè, basta trovare similitudini di altre squadre, no, noi giochiamo come l'Inter di Simone Inzaghi, perché l'Inter di Simone Inzaghi, come gioco, gioca come i siti di Guardiola, quindi l'Inter gioca come l'Inter di Inzaghi, punto, perché il gol dell'arciere persiano, del raddoppio, è un'opera d'arte da far vedere in tutte le scuole calcio, come poi la maggior parte dei gol segnati quest'anno, perché iniziano a essere tantissimi, no, sul taccuino i gol di questa fattura, ma poi, voglio dire, fa partire l'azione Michi. Dai e vai con Fontana Rosa che mette quel tacco clamoroso, altra grande prova, secondo me, di Fontana Rosa, che ieri mi è piaciuto, personalità sempre preciso negli interventi, ha dato anche un po' di spinta da braccetto, si vede che comunque tutti i prestiti in giro per l'Italia gli hanno fatto bene, perché comunque si vede che è un ragazzo che è cresciuto dal punto di vista del posizionamento, già si intravedeva con la pergolettese, era un altro test, però ieri mi è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo Alessandro, e poi, vabbè, il tacco clamoroso che mette per Mkhitaryan, poi la mette dentro per l'arciere, che vabbè, ormai in zona gol l'arciere, voglio dire, è come lavarsi le mani con una saponetta, voglio dire, riuscirebbero davanti alla porta uno come Taremi, non ci pensa due volte, cioè, la butta dentro, ma poi, voglio dire, oltre a ciò, l'MVP vero, chiaramente Taremi, con la pericolosità, prima palla che tocca in area, si procura il calcio di rigore, lo trasforma in modo pregevole, oltre che ad abbassarsi, ad aiutare la manovra della squadra, è coinvolto tantissimo, gioca anche da trequartista offensivo, ed è questa la lettura tattica che vi avevo detto quando giocava al Porto, lui in Portogallo giocava molto come regista offensivo, poi in Europa era più un uomo d'area di rigore, ma con il Porto in campionato, l'anno scorso, giocava veramente da trequartista offensivo, uno che è detto ai tempi davanti, che viene ad aiutare e viene a fare raccordo col centrocampo, ma soprattutto un giocatore che ha il gol nel sangue, e oltre ad avere il gol nel sangue, cioè, è veramente un futbolista come è di Ingeco, cioè, io mi ricordo l'azione, per esempio, nel primo tempo dove va a prendere questa palla sulla fascia sinistra, fa un doppio passo, va in velocità sul difensore della Spalmas e poi mette Correa davanti al portiere che poi si inceppa nel movimento, ma stiamo parlando di un giocatore che, come per Zielinski, è un titolarissimo, e quindi quest'anno ti puoi permettere anche per l'attacco delle rotazioni che l'anno prossimo non potevi permetterti, per esempio, mi viene da pensare il periodo pre-natalizio, quando si era infortunato Lautaro in Coppa Italia con il Bologna, che hai dovuto giocare la gara con il Lecce e Amarassi col Genoa, senza Lautaro hai fatto fatica, hai fatto fatica davanti, infatti mi ricordo che quella partita lì la sblocco a Bissek di testa, con il Lecce, con il Genoa hai pareggiato, comunque è stata una partita molto stantia in termini di attacco, perché non avevi apposta le rotazioni perfette. un taremi così, voglio dire, cioè è normale che alza il livello delle alternative in una maniera veramente non indifferente, perché hai un campione. Hai un campione, e ripeto ancora uno, che si va a prendere quella palla lì, come me, quando ho visto quell'azione lì veramente mi sono meravigliato. Cioè, chiaramente tutti sapevamo le caratteristiche, le qualità dell'arcere persiano, e le abbiamo, ve le ho sempre preannunciate, però a vedere quell'azione lì doveva prendere quella palla sulla fascia sinistra, fa il doppio passo, va in velocità, poi mette una palla d'oro, cioè, ripeto ancora, figuriamoci quando entrerà anche lui a pieno regime di condizioni durante la stagione. Queste comunque, ripeto ancora, sono solo amichevoli, quindi come non ci dovevamo, io non l'ho mai fatto, ma come i tristoni non dovevano tanto come dire, mettersi a piangere perché Turam l'anno scorso non segnavano gli amichevoli, c'è da dire che comunque non bisogna neanche esaltarsi troppo per Taremi, però comunque queste sono amichevoli che non è che ti fanno vedere tanto la forza dei giocatori, ma ti fanno vedere comunque in una squadra che dove ieri sono sceso in campo solo Mkhitaryan di titolare, gli altri sono cotitolari o riserve, hai visto una squadra che gioca a memoria, gioca a memoria, si trova sempre nello stretto, vede gli inserimenti con un Mkhitaryan spaventoso, perché ho perso ormai gli aggettivi per Mkhitaryan, altro assist ieri, cioè, voglio dire, hai visto una squadra che comunque gioca a memoria, nonostante poi tutte le vacanze, il periodo di sosta, il periodo della preparazione per i giocatori che non hanno fatto le coppe, basta vedere Carlos Augusto, ieri veramente una partita eccellente anche dal punto di vista della spinta offensiva, cioè, anche offensivamente sta migliorando sempre di più, gli ha fatto bene il periodo di inizio luglio ad appiano con il mister, ma ieri veramente un altro giocatore che ormai sta acquisendo sempre una personalità notevole, un piede che in pochi centrali, braccetti destri hanno, è proprio la leadership del Bistecone, cioè, Bistec ieri fa una super partita, ha fatto due uscite dalla difesa, palla al piede, tra cui, tra l'altro, una è quella del rigore procurato da Taremi, giocatore che ormai, no, bisogna, perché poi è facile, no, arrivare a dirlo adesso, con questa leadership, con una crescita anche mentale, offensiva, cioè, sappiamo che Bistec descrive solo una parola, futuro, perché Bistec è un centrale moderno, il futuro dell'Inter, e bisogna tenerselo stretto, non a caso, guarda, chi lo vuole, chi lo ha voluto quest'estate, il Real Madrid, cioè, voglio dire, bisogna tenerselo stretto, perché è un centrale moderno, un centrale che può giocare in qualsiasi schema tattico, può giocare nella difesa 4, può giocare come abbraccetto, può giocare come centrale, secondo me ha tutte le carte regola per farlo, poi ci vuole tempo, però ha tutti i presupposti per fare anche il ruolo del centrale puro, ma vorrei vederlo anche come esterno, io Bistec, perché per la spinta che dà per tutte le galoppate, palla al piede, io vorrei vederlo anche sulla fascia, al posto di Dunfries in qualche partita, perché sarebbe veramente curiosa la situazione, perché ha veramente tutte le caratteristiche per essere un punto fermo, cioè secondo me già lo è, però un punto fermo veramente per il futuro dell'Inter, e poi voglio dire anche sottoporta, abbiamo visto le conclusioni di testa, il gol a Bologna, il gol con il Lecce, stiamo parlando di un treno, cioè Bistec è veramente un treno, ma poi a parte, oltre all'uscita ne ha fatta un'altra nel secondo tempo per Correa, che poi ha tirato sul primo palo con il destro, un'uscita veramente spaventosa, un trattore, cioè Bistec ormai stiamo parlando veramente di un predestinato, che bisogna a tutti i costi cercare, più non posso, di trattenerlo, perché sicuramente se quest'anno dovesse fare un'altra stagione, in continuazione a quella di quest'anno, cioè quella dell'anno scorso, sarebbe veramente dura trattenere un campione del genere, cioè un campione, un predestinato a tutti i costi, secondo me, che poi diventerà un campione, perché Bistec ha tutti i presupposti, ricordiamo ha pagato 7 milioni, alla faccia della società che non fa scouting, alla faccia che Ausilio prende solo cessi, come dicono i fenomeni, insomma, veramente grande colpo targato Piero Ausilio, un giocatore sontuoso. Ora, devo dire comunque che la maglia dal campo è molto più gradevole, io sapete come la penso, ogni volta che la vedo mi piace sempre di più, non è che mi faccia impazzire, però già di suo, però devo dire che dal campo, ma un po' come tutte le maglie, perché alla fine anche quelle più scandalose, poi dal campo sono tutte, diciamo, gradevoli, però devo dire che la maglia in televisione, diciamo che ha passato il test visivo, ha retto molto bene la prova TV, devo dire la verità, è comunque una maglia che, vabbè, a Barellino stanno bene tutte le maglie dell'Inter, però questa gli sta veramente da dio, poi con la fascia da capitano nel secondo tempo, fascia che giustamente ha messo Mkhitaryan dal primo minuto, e insomma poi facciamo anche un po' di pagelle, un po' le abbiamo già iniziate, per quanto riguarda Joseph Martinez, secondo me ha fatto una buonissima gara, iniziamo subito con la tradizione di Sommer, quindi con il primo clean sheet della stagione, diciamo che esattamente ha preso appunti da Sommer su cosa fare, cioè guardarsi la partita, perché il Las Palmas ha fatto un tiro in porta, è vero ha fatto quell'errorino lì sul passaggio per Zielinski, però essendo che comunque Joseph si sente un portiere sicurissimo con i piedi, si può poi sfociare in qualche errorino, il che comunque ci sta, perché deve conoscere ancora al meglio le caratteristiche dei compagni, quindi un errorino che si fa perdonare, si è fatto perdonare con un grandissimo intervento verso l'84esimo, su quel bellissimo tiro del giocatore della Spalmas, la smanaccia, una palla che andava praticamente all'incrocio di pali, sempre attento, personalità anche per lui, ma d'altronde vi ho sempre ribadito questa sua condizione, tra l'altro dei primi calci che ha mosso proprio alla Spalmas, quindi era anche un derby per il suo passato, per Joseph, quindi veramente una buona prestazione per Martinez, Fontana Rosa già detto, bellissima partita, non è piaciuto, personalità impeccabile dietro, entra anche nell'azione del gol del 2-0, Agumeda centrale un po' svogliato, data anche la ormai imminente cessione a Siviglia, adesso ci arriveremo chiaramente dopo che finiamo le pagelle, però comunque ha fatto il suo, Agumeda ha fatto il suo, chiaramente molto meglio con la Pergolettese, però da centrale ha fatto un po', il mister ha fatto un po' una trasformazione come Ancelotti, che ha messo Chiuameni centrale, e Inzaghi l'ha fatto con Agumè, tra l'altro giocatori che si assomigliano anche però, bella partita di Lucien, Bissek, vabbè ormai abbiamo perso anche gli aggettivi, sontuoso, un treno, Kamatè sulla destra, ha giocato veramente bene, ha fatto 3-4 discese importanti, punta all'esterno, cosa che magari pecca un po' Denzelone, da quel lato lì, i piedi ci sono, altro test superato alla grande, Kamatè è un giocatore che, guarda caso, l'Underlet che continua da anni a investire sul progetto Giovani, in ola in Belgio, lo vuole prendere in prestito per la prossima stagione, Kamatè sicuramente, poi tra l'altro Kamatè è una punta, Kamatè nasce come punta, sono nelle amichevoli, gioca come quinto laterale, eppure ha veramente, ha fatto fatto veramente bene, oltre alla gara con la Pergoletese, che secondo me è stato Kamatè uno dei migliori in campo. Poi, nei tre di centrocampo, l'abbiamo già detto, benissimo, Zielinski, nonostante sia arrivato da pochissimi giorni, si vedono già le qualità di un giocatore, di un campione, di livello alto, Mkhitaryan, cosa gli dobbiamo dire, abbiamo già detto all'inizio video. Poi, per quanto riguarda Aslani, a me, devo dire la verità, è piaciuto, è piaciuto, magari un po' di cattiveria, nel, nel, nel rischiare qualche imbucata, magari, che ti puoi permettere, contro la Spalmas, in un amichevole, del genere, stava rischiando, di fare un grandissimo gol, su punizione, che ha, sfiorato sul primo palo, una bellissima punizione, battuta da Christian, che ha messo in difficoltà, il portiere della Spalmas, certo, poi non sono queste le partite, dove deve tirare fuori la cattiveria, assolutamente, assolutamente, però, Aslani, veramente, altra, buonissima prestazione, con la pergoletesa, a me era piaciuto, e, ieri sera, ha continuato, su quel livello, e se poi fosse entrato, quel gol, su punizione, poi tra l'altro, l'ha sferato anche nel secondo tempo, ma devo dire che, si è fatto vedere con, con parecchie conclusioni, quindi, insomma, non, prestazione, ottima, ottima, del, dell'albanese, sulla sinistra, Carlitos Augusto, abbiamo già detto, migliorato tantissimo, anche in fase di spinta, mi è piaciuto un sacco, e davanti, vabbè, l'MVP, ormai, nulla da aggiungere, per l'arciere persiano, Medi, Taremi, e devo dire che Correa, comunque, è tutto sommato, certo, la volontà è quella che è, a voglia di rescindere il contratto, si vede palesemente, cioè, il gioco di ragazzo, è svogliato, però, comunque, ieri non ha fatto manco così male, devo essere sincero, cioè, alla fine, a parte che c'era un rigore netto, poi, su Correa, non fischiato dall'arbitro Sacchi, ha avuto tre o quattro occasioni, un tiro rimpallato, due belle parate del portiere della Spalmas, dai, c'è da dire che, essendo abituati alle prestazioni di Correa, c'è da dire che ha fatto veramente peggio, in altre volte, quindi, non, non possiamo adesso, certo, rimane, rimane un, un bidone, però, dai, tutto sommato, ieri, ne abbiamo visti di Correa peggiori, dai, possiamo dire che ne abbiamo visti di Correa, veramente peggiori, comunque, era, dentro le trame di gioco, si metteva a disposizione per i compagni, metteva qualche, qualche bella palla lunga, dai, comunque, tutto sommato, non ha fatto male, poi, vabbè, i tre centrocampisti, Berenbrook, quelli che sono entrati, poi, i due, vabbè, senza voto, alla fine hanno avuto poco tempo per mettersi in mostra, e poi, e poi, gli italiani, che tornano in campo con un golasso di Dimash, gol, fantastico, voleva crossare, no, adesso chiediamo ai milanisti del cazzo se voleva crossare, no, perché poi, come col Frosidone, no, ma voleva crossare il cesso, sì, sì, voleva crossare, sicuramente, voleva crossare, voleva crossare, voleva tirare, e basta, grandissimo gol di Dimash, che finalmente, torna a giocare nel suo vero ruolo, vero Spalletti, vero, eh, qual è il ruolo di Di Marco, vero, qual è il ruolo di Di Marco, dimmi qual è, qual è il ruolo di Di Marco, il quarto di difesa nella difesa a quattro, eh, il terzino sinistro nella difesa a quattro, eh, eh, blocco Inter è la colpa, sì, sì, sicuramente, quindi mi fa veramente piacere tornare a vedere i miei ragazzi, i miei italiani, nella, nello schema di Simone Inzaghi, frattesi, stava sferendo un gol, stava sferendo il gol del 3-0, sì, prima del gol di Di Marco, se non sbaglio, su una bellissima, su un bellissimo lancio clamoroso di bastoni, che, come sempre, i suoi cambi di gioco, sono, sarebbero da mettere come patrimonio europeo, e, e poi frattesi da due passi, sbaglia un gol, comunque, ha fatto una bellissima discesa, bene Davidino, Barellino, che mette una palla fantastica per Di Marco, che poi non si intende con Correa, e quindi poi, perdiamo un'occasione, però, ha dato ordine anche Barellino, e, e quindi, insomma, poi, poi è entrato Di Gennaro, vinta in scioltezza, primo tempo monumentale, perché al primo tempo abbiamo veramente dominato, e poi dopo, un po' con il caldo, un po' con la, con la condizione, diciamo, breve, di quelli che sono arrivati, pochi giorni fa, poi si è sentita anche, la, la differenza di preparazione, quindi è normale che poi, nel secondo tempo, abbiamo un pelino abbassato i ritmi, come è giusto che sia, però, veramente, l'Inter del primo tempo, è un Inter che, con un titolare come Mkhitaryan, con tutti gli altri riserve, e alcuni co-titolari, ha fatto veramente il panico, e ha fatto sembrare la Spalmas, una squadra come il Milan, o la Pergolettese, cioè, bisogna dire le cose come stanno, una Spalmas che non è proprio, come la Pergolettese o il Milan, è una squadra che gioca comunque, in Liga, quindi, con, ripeto ancora con l'Inter, con un titolare su 11, quindi, un primo tempo, veramente, emozionante, dei ragazzi di Simone Inzaghi, che, sono già rodati, giocano a memoria, questo, è, il primo fatto, ed è il primo punto, da evidenziare, e, veramente, mi mancava tantissimo l'inzaghismo, mi mancava, il Lemon Ball, devo dire che mi mancava, a tutti i costi, finalmente, gli abbiamo rivisto un po' di calcio, tra tre settimane, si inizia a fare sul serio, e, e quindi, adesso poi ci sarà Arnautovic, che è rientrato ieri, eh, tra qualche giorno, rientranno gli olandesi, con Don Fils pronto a firmare il rinnovo, arriveranno i francesi, e poi, eh, il Toro e Carboni, al 7-8 agosto, per, fare sul serio, l'unica incognita che abbiamo, forse sono solo i rienti delle nazionali, perché sul resto, zero incognite, veramente, sul resto, c'è solo da goderci, questa, schiaccia sassi, che ormai non è una squadra, è uno schiaccia sassi, poi ripeto, bisogna dire che, è un amichevole, non bisogna esaltarsi troppo, però, cioè, da sottolineare, una squadra che comunque, senza titolari, gioca a memoria, e, eh, umilia il Las Palmas. Poi, chiudiamo, con un po' di mercato, le ultime notizie, allora, cioè, sapete, la volontà dell'Inter, la prima, e soprattutto l'obiettivo numero uno, del mercato dell'Inter, oltre chiaramente al braccetto, che si stanno aspettando risposte, sull'offerta per Renan, per Zezé, offerta stipulata ieri, da cash, incluso il cartellino, o di Radu, o di Filip Stankovic, il Nante, che sarebbe orientata, anche ad accettare questa offerta, per quanto riguarda, Gudmundsson, sappiamo, l'obiettivo primario, è quello, di portarlo all'Inter. L'Inter vuole a tutti i costi, l'islandese biondo, che fa impazzire il mondo, un giocatore, che ti serve davanti, perché, ti aggiunge il dribbling, ti aggiunge, la velocità, la qualità, nello stretto, e con un taremi del genere, che, praticamente, fa tutte e due, perché, oltre che a scendere in manovra, oltre che a segnare, oltre che a essere un pivot, che però, dal punto di vista, tecnico e molto raffinato, insomma, hai anche un, l'hai visto ieri, hai anche un buon dribblatore, un futbolista, Taremi, il classico attaccante, che piace a me, il futbolista vero, quello che davanti, sa fare tu, un attaccante totale, che sarebbe veramente, il miglior, vice, per Turam, per quanto riguarda Lautaro, serve un giocatore, che salta l'uomo, come sua, diciamo, come sua riserva, un giocatore, un brevilinio, che crea, superiorità numerica, dalla panchina, Gudmundson, è, il giocatore, che ti può far fare, veramente, il salto di qualità, anche in Europa, anche in Europa, quindi, l'Inter, sappiamo, che ha avuto, dei contatti, con il Genoa, nei giorni scorsi, per, trovare un accordo, su un prestito, con diritto di riscatto, di 8 barra 10 milioni, subito, più il riscatto, l'anno prossimo, sui 20 milioni. Il Genoa, non ha ancora dato il via, alla formula, non ha ancora accettato, a tutti, gli effetti, la formula, però, si sta lavorando, e c'è ottimismo, su questa formula. bisogna, evidenziare, che l'Inter, è forte, dalla, a breve, la definizione, di, dei 4 milioni, di prestito, per Carboni, al Marsiglia, con, 36 di diritto di riscatto, e 40 di recompra, quindi, il giocatore, che ha tutti gli effetti, è di proprietà, nera azzurra. Poi, i 6 milioni, 7 milioni, sui 6 sui 7, la cifra è quella, di Satriano, a titolo definitivo, al Brest, Agumet, a 8 milioni, si può affondare, finalmente, in modo definitivo, per la cessione, a titolo definitivo, al Siviglia, anche lì, poi Agumet, cioè, voglio dire, tutti i giorni, cioè, allora, un giorno, non va bene il Bologna, che gioca la Champions, cioè, come si fa a rifiutare il Bologna, poi, il Marsiglia, non va bene, quello, non va bene, il Torino, non va bene, il Siviglia, sì, andiamo a capire, la testa di Agumet, comunque, l'importante, è avere un accordo, e quindi, insomma, ci sarebbe, questo, tra l'altro, ha rifiutato anche l'Udinese, insomma, quindi, ci sarebbe l'accordo a tutti gli effetti, e sarebbero più o meno nelle casse, 16 milioni, se poi contiamo anche i 4 di carboni, insomma, siamo quasi sui 20 milioni di euro, quindi l'Inter, il tesorato per affondare, Gudmundsson ce l'ha, adesso, si vedrà poi, più nello specifico, tutti gli accordi, tutte le cifre, comunque, è un Inter che è forte, 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 sull'islandese, forte, 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 su Albert Gudmundsson, primo obiettivo dell'attacco dell'Inter, e poi, c'è l'interesse per Susic, sì, Susic, che ha un valore di mercato di 15 milioni di euro, abbiamo già parlato ieri, che da Kiker, che è un media tedesco, si vocifera un interessamento dell'Inter per prendere la parametro a zero l'anno prossimo, che ha un contratto in scadenza 2025, giocatore una mezzala di contenimento, un incontrista alla Barellino con meno tecnica, ma forse molto veloce, lo stesso, insomma, l'avevamo già parlato ieri sul profilo di Susic, a zero sarebbe un grande colpo, 2002, giovane, a prenderla a zero l'anno prossimo sarebbe, anche quello è un grande colpo, anche lì andresti a mettere un altro tassello a centrocampo, che ormai siamo coperti, però, insomma, le esigenze sono altre sicuramente, cioè le esigenze chiaramente è quella dell'attaccante, che però arriverà quest'estate e con calma Inzaghi avrà a tutti gli effetti il mercato che voleva, quindi la dirigenza in prima linea come sempre sarà pronta ad accontentarlo, è pronta a tutti gli effetti ad accontentarlo, e quindi di cosa ci vogliamo preoccupare? Ho sentito ancora i fenomeni che parlano i tristoni, no però con Taremi e Zielinski senza Octree, cioè con Octree non sarebbero mai arrivati, grandissima cazzata, perché ricordiamo che non è tanto un fattore di età di Octree, è un fattore di costi, perché se io devo andare a prendere, l'Ermoso che mi brucia 30 milioni lordi in tre anni e prende 5 netti all'anno, ovvero 10 lordi all'anno, cioè è un'operazione che non è che non puoi fare se ti chiami Octree, non puoi fare se ti chiami società di calcio, infatti guarda caso, chi lo sta prendendo Ermoso? nessuno, nessuno lo vuole Ermoso, dalle cifre che spara non lo vuole nessuno, cioè non è proprio la stessa cosa, non è proprio la stessa cosa, e poi soprattutto Taremi e Zielinski non hanno chiesto commissioni del genere come Ermoso, quindi non è tutto un fattore di età, è un fattore di conti, è anche un fattore che bisogna guardare, quello della qualità, del rapporto qualità prezzo, perché Taremi e Zielinski il rapporto qualità prezzo sono giocatori che hanno e metteranno e aggiungeranno qualità alla rosa dell'Inter con dei costi molto contenuti, regalati, Ermoso non è proprio regalato, perché 30 milioni lordi in tre anni, quindi non è in questione di Octree che senza Octree non sarebbero arrivati Taremi, sono tutte cazzate, tutte cazzate, quindi, ma tanto poi voglio dire, arriverà l'attaccante, arriverà la quarta punta, e poi lì sarà da vedere se la gente parlerà ancora male di Octree, a mala sempre, sempre Forza Inter, un bacio a tutti ragazzi, mi raccomando ragazzi che andiamo al prossimo video, domani con l'edizione giornaliera, like, iscrizione al canale, e sempre Forza Magica Inter, ciao ragazzi. Grazie.